Questa prima trofea, a voi Sindaco, buongiorno a tutti, spero ragazzi che vi siete divertiti e che i giudici vi hanno stati sbrati e vi abbiano sfamato per fare un'ottima gara, come sicuramente ne sono certo avete fatto. Noi ci abbiamo visto oltre al blu, come avete visto questa prima edizione del Nota del blu, anche le meduse, perché non ve l'avete detto prima, ve lo dico io adesso, era un aggravante più, un impegno in più per voi, per capire quanto siete bravi e non quanto siete bravi. Mi hanno detto che quasi tutti hanno superato la prova, qualcuno però si è fatto peccati. Si è fatto peccati, il più prossimo. Vabbè, allora quelli che ci sono fatti peccati sono invitati già per l'anno prossimo, perché non si ripetono e vediamo di far superare la prova anche a loro. Allora, ancora un saluto in bocca al lupo per chi farà le prossime gare, perché questa è stata la prima, ma so che ce ne saranno delle altre, a parte i dischetti veramente sono contento di quello che è stata la scelta degli organizzatori e del consigliere delegato dello sport del comune di Positano, il consigliere di Leva, che è sempre molto attento a tutto quello che è le problematiche, in special modo a giovanissi. Veramente grazie a tutti voi che avete partecipato e grazie agli organizzatori che hanno voluto scegliere Positano come prima amica.